Gentili telespettatori, buona giornata. Carlo Rossella è uno degli ospiti fissi nel programma di Floris di martedì. È uno degli ospiti fissi perché serve al conduttore per andare contro al governo e far passare l'idea che sia un governo che fa tutte delle schifezze, una peggio dell'altra. E quelli come Rossella capitano proprio a Fagiolo perché sono quelli addirittura che ti dicono che questo è un regime che ricorda il dittatore italiano. Ecco, chi meglio di questi personaggi possono portare avanti la missione del conduttore che è quella di dire che e far capire al suo pubblico che siamo governati da una sorta di regime o qualcuno che ci sta portando a una ungherizzazione dell'Italia. E così, ogni martedì c'è questo Carlo Rossella che in videocollegamento attacca il governo. Ex direttore di Panorama e pseudo esperto di vari temi di politica e attualità. Dico pseudo esperto perché sentirlo parlare mi sembra una persona schierata ideologicamente e basta. Non ci vedo un pensiero critico, autonomo, libero da condizionamenti, un pensatore. No, è ideologicamente assolutamente schierato a sinistra. Si parla del caso Daniela Santanchè che gode dell'appoggio del Presidente del Senato, una vecchia amicizia eccetera eccetera. Quanto alla compravendita sospetta della villa di Alberoni, con un guadagno di un'ora in 58 minuti, Rossella conferma le perplessità. Beh, una cosa complicata da spiegare alle persone normali, mi sembra molto complicata. C'è dietro come al solito l'amicizia della Santanchè con la russa, che è ferrea. Beh, allora lì, una compravendita alla luce del sole, vista così, ha due aspetti. Comprano una casa e la rivendono dopo 58 minuti a un milione in più. Guadagni un milione, si paga le tasse sulla plusvalenza. Dite, vabbè, hanno fatto un affare incredibile. Chi riesce a guadagnare in 58 minuti un milione? Però poi ci pensi e dici, beh, caspiterina, qualcosa di strano c'è, perché, e per questo che stanno indagando i giudici, non per il fatto in sé, compri, rivendi e ci guadagni. Voi potete comprare una cosa d'occasione all'outlet e poi vendervela su internet e guadagnarci qualcosa. Cioè, cavolo, te in un'ora hai comprato una cintura all'outlet 10 euro, l'hai rivenduta a 30, hai guadagnato 20 euro. Sì, però capite che su una casa comprata a 2 milioni e mezzo e rivenduta a 3 milioni e mezzo in 58 minuti, le cose non tornano, chiaramente. Ma non sulla compravendita. Non è che si critica chi guadagna un milione in 58 minuti. Però capite bene che c'è qualcosa di molto strano. Giusto? Eh, è abbastanza strana questa cosa qua. Quindi i giudici stanno indagando non sul fatto che uno possa o no comprare e guadagnarci dei soldi con una compravendita di una casa, ma il fatto in sé è sospettoso, no? Ma la notizia più importante è un'altra. Lasciando perdere la compravendita della casa saranno i giudici a capire se quella compravendita serviva a qualcos'altro. Si parla della riforma del premierato. E Carlo Rossella dice La riforma in Parlamento è una buffonata. Ci sono molte somiglianze con i desideri di lui. Con la L maiuscola, il dittatore italiano. Ecco qua che arriviamo. Dice Sono spettacolini perché si vuol far vedere al popolo che si è come il popolo. Si gioca al calcio balilla. Quest'ultimo nome non a caso è molto evocativo. Ha fatto vedere la Meloni che giocava col calcetto lì, a calcetto, no? Quello che si chiama calcio balilla. Con il tavolo dove si gioca a calcetto, no? Ecco. Quindi il premierato, voluto per primo dalla sinistra, viene considerato da questo Carlo Rossella una buffonata che voleva il dittatore, che assomiglia a quello che voleva il dittatore. In realtà il premierato è una cosa che voleva la sinistra, per prima, tanti anni fa. Una cosa che ha sempre voluto Renzi, il PD. Solo che da quando il centrodestra lo ha messo nel programma è diventata una cosa che ci porterà alla dittatura. È praticamente bassa ideologia, nel senso, parliamo di un livello di faziosità ideologica sconcertante. Tutto quello che fanno gli avversari fa schifo ed è pericoloso. Destra e sinistra sono uguali, eh? Tutto quello che fa la sinistra fa schifo da parte di destra, tutto quello che fa la destra fa schifo dalla parte della sinistra. Tifoserie, semplici tifoserie. E così si arriva a dire che il premierato che voleva la sinistra è una buffonata, perché ha delle somiglianze con i desideri di lui, lui, è il crapun, no? Diciamo che il premierato della Meloni in realtà non è neanche un premierato. Il premierato vuol dire spostare tutti i poteri del Presidente della Repubblica sul Presidente del Consiglio. Al contrario, il presidenzialismo invece è spostare tutti i poteri del Presidente del Consiglio sul Presidente della Repubblica. Quindi, il premierato vuol dire che il premier assume tutti i poteri del Presidente della Repubblica e diventa l'unico che decide in Italia. Ma non è un premierato, è l'elezione diretta del premier. Non è il premierato, non è il presidenzialismo, non è neanche una forma soft di premierato, è semplicemente l'elezione diretta del capo del governo, che poi, visto che la sinistra sbraitava su sta roba della dittatura, hanno messo anche il limite a due mandati. Dove sta l'uomo o la donna forte se dopo due mandati se ne va a casa? Hanno messo il limite a due mandati, poi il premio di maggioranza, eccetera, eccetera. Quindi il governo dice, la sinistra si lamenta, ok, facciamo quello che dite voi. Però voi vedete che non è sufficiente, perché la sinistra è schierata ideologicamente come una tifoseria, pertanto, se il premierato è quello che vuole anche la sinistra esattamente, e continueranno a dire, come questo Carlo Rossella, che è una buffonata, che somiglia ai desideri del dittatore. Questo è il punto. È inutile che il governo faccia questa elezione diretta come cavolo vuole, perché è inutile andare a inseguire la sinistra. Dai, siete d'accordo anche voi, votatelo, perché non lo voteranno mai. Solo per presa di posizione ideologica. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.